musica 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 sto perciò dai come stai alamac sta fumando frescate con la lingua bagnato dai, così i miei amici si scandalizzano visto che sono anni che rifiutano di fumare e rifiuto anche le donne la cosa fa l'amor ma faccio a ciao a vostro che non siete un generale, sfigati ciao a te mira, teo ... Passa a sto coi E' un tiro solo energico, non è che devi fare Aspetta, aspetta 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 Aspetta